Stasera tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale a Giarre con l'attività ispettiva e due atti di indirizzo all'ordine del giorno. La settimana scorsa si è conclusa la carel della seconda commissione con il rientro nei ranghi di Vittorio Valenti. Sulla vicenda è intervenuto il Presidente del Consiglio Comunale di Giarre, Francesco Longo. Valenti è rientrato a far parte della seconda commissione ed era quello che io mi auspicavo, anche perché Valenti, essendo un artigiano, è giusto che porti avanti le istanze degli artigiani nella commissione competente. Per quanto riguarda gli altri attori di questa faccenda, faccio un bravo su anche loro perché hanno fatto un passo indietro dichiarando che anche loro, forse per inesperienza, alcune volte non riescono a gestire nel migliore dei modi, ma sicuramente non con quel pizzico di malignità, ma solo perché ancora devono capire determinati meccanismi. Hai fatto discutere anche, Presidente, anche la scelta di una seduta straordinaria. Come mai? Io l'ho detto all'inizio seduta, mi sono attenuto a quello che mi impone il regolamento delle commissioni, nel caso specifico il comma 4 dell'articolo 4, dove praticamente mi dice che al primo consiglio devo mettere come primo punto all'ordine del giorno la surgo del componente dimensionario. Quindi sono d'accordo anch'io, e l'ho dichiarato in consiglio, che due conferenze di capigruppo e una seduta di consiglio magari sono un po' tante, però bisogna attenersi a quelli che sono i regolamenti e questa mia intenzione è quello proprio di fare questo. Lei ha ribadito anche la necessità di abbassare i toni nelle ultime settimane, c'è stata un po' troppa tensione anche in relazione poi alle questioni affrontate. Sì, io sono convinto che bisogna portare quello che è la politica in consiglio, per cui alzare i toni in una faccenda come quella di ieri mi è sembrato eccessivo. Quindi ho parlato un po' con tutti i consiglieri e credo, ho percepito che abbiano l'intenzione di ritornare veramente a fare politica e non cortile.